Scusami, cosa ti do? Un vodka tonic. Un vodka tonic? Andiamo, è il primo drink della serata, mettimi alla prova. Non lo so, un negroni? Un ne cosa? Oh, scherzo. Il negroni. Preparato nel 1919 per il conte Camillo Negroni, quando chiese al posto del Seltz per il suo solito cocktail, l'americano, il gin. Non ti ho mai vista qui? Non è la mia zona. Non è la tua zona, di dove sei? Greenwich. Greenwich, sembra bello. I barman lì non fanno lezioni di storia. Beh, i barman di Greenwich non preparano negroni come questo. Conto aperto o paghi subito? Aperto, mi sa, i soldi sono di papà. La sigaretta. Inventata da Alfonso Sigaretti nel 1462. Scherzo, non so chi abbia inventato la sigaretta. Sei un po' strano, ma anche un po' carino. Beh, allora sono un po' offeso, ma anche un po' lusingato. Tieni. Andiamo. Sai che c'è? Meglio così. Sto provando a smettere. Beh, magari è un segno. O magari devi solo comprartene uno che funziona. Questo vecchio coso? Oh, funziona. 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 L'ingenua col fondo fiduciario? Era il giusto bersaglio. Non so di che parli. Sì, che lo sai. Sei discreto. Vai sul sicuro. Non prendi troppo in una volta sola. Fermami se sto sbagliando. Ti stai sbagliando. E noi siamo chiusi, quindi... Accomodati fuori. Victor Sullivan. Puoi chiamarmi Sally. Grazie. Non ci tengo, ma grazie. Sta per arrivarmi un lavoro, uno grosso. Mi serve una mano. È questo che fai. Entri barcollando nei bar alla ricerca di un complice. Ti offro l'occasione di andartene da qui. Di vedere posti che hai letto solo nei libri. Che ne dici? Hai capito male, Victor. Non sono uno scemo in un bar. E alcuni di noi qui vorrebbero andarsene a casa, quindi... Vai fuori. Va bene. Ciao, ciao. Ehi, Goldie, dammi una birra. Certo. Figlio di puttana. »Certo. «Certo. »